Accomodatevi Inanzitutto moderate i termini perché non siete a casa vostra Non sono mica vostra madre Cosa è che stai cercando a me? Cosa avete cercando la mamma? Non peggiorate la situazione Ma non è che noi situazioniamo nessuna peggiorizzazione Bene, da quanto vedo avete parecchi precedenti Furto di goleador, rincorso una vecchietta Urlato 168 volte tagatsue Mia mamma a 162 persone in una sola giornata Te l'hai detto fuoco grigio? L'abbiamo costretti, ci hanno cercato la mamma Parliamoci chiaro, questa è l'ennesima stronzata Ascolti, fuoco grigio? Ma non mi ha merito nessuno, eh? Tagatsue Si è morto Palminare